Musica Ciao a tutti i gocci in questo nuovo video di Nazuma Live & Go Chrono Stones Fiamma e siamo in un nuovo episodio di questa serie andiamo avanti con il gameplay dopo qualche giorno anzi siamo quasi una settimana dopo l'ultimo episodio a causa di vari motivi diciamo ci sono stati perché volevo portarvi una Pyro Battles solo che poi poco prima di iniziare a registrare ho avuto dei problemi tecnici allora ho dovuto annullare il video che sarebbe uscito giovedì comunque ho fatto anche delle live per chi non l'avresse seguita magari ve lo dico qua visto che sicuramente più gente vede i video di Nazuma che finalmente ho una Playstation 4 la Slim ho e appunto inizierò a fare live e serie su Playstation 4 al più presto ho iniziato con PES 2017 ma in futuro potrei fare qualsiasi altra cosa magari se volete potete già dirmi qualche bel gioco che mi potreste consigliare ditemi voi comunque io ho già in mente qualcosina da portare sul canale allora eravamo arrivati qui all'esercito di Terracotta che dovevamo affrontare nella fortezza di Zuge Liang e non so il livello che serve per affrontarli ho fatto però qualche amichevole quindi diciamo che magari ce lo possiamo fare ho aumentato il livello adesso vediamo un po' com'è se c'è qualche differenza Liu Bei parteciperà alla partita dobbiamo mettere ah ok sia JP che Liu Bei ah ok informazione non in campo meno male se no qui erano guai ok ok così va bene così va bene cioè no non va bene perché Liu Bei in porta non è una gran cosa però dettagli quindi difesa siamo a posto a centrocampo pure Sol come è messo non è anche troppo bene io magari farei così a sto punto e farei ecco questa formazione mi sa che va un po' meglio anche se Sol dovrebbe imparare l'armatura più presto perché se no qua veramente non è che combiniamo chissà cosa in attacco se ha l'armatura è proprio perfetto perché già è abbastanza forte ok si comincia la sfida contro l'esercito di terracotta sapete non avrei mai pensato in giocare a calcio contro delle statue pensa piuttosto che vinceremo facile eh vedremo non posso credere che abbiamo messo quello svitato in porta non vinceremo mai così addirittura svitato ok pensiamo alla partita eh a livello soprattutto 23-27 hm quattro livelli eh non è non è che sia messi proprio bene poi stavo anche facendo qualche altra amichevole solo che poi ho pensato ma si dobbiamo giocare contro l'esercito di terracotta cosa sto qua a fare tutte ste amichevoli è vero che mi serviranno anche in futuro però per sta partita non è che mi metto a fare chissà quante amichevoli due le ho fatte di sicuro non so se è anche la terza poi cioè non so se è la quarta quella che stavo per fare poi non ho più fatto oppure se è la terza vabbè fa niente tic tac nessuna pietà eh si blocco elettrico questa tecnica era dei di robot guardiani lì del museo del calcio o sbaglio mi sembra ah come fanno a essere così agili invincibile però ce lo fanno contrastare comunque vabbè ok mamma mia pure colpo critico vabbè meglio ora che è invincibile piuttosto che più avanti adesso non stiamo a perdere tempo che se no magari lo sprechiamo per quando ci sarà proprio bisogno tipo bari di avanzamento robe varie così so perché qua non metto a fuoco la schermata superiore ok a posto una tecnica di tiro speciale la bloccherò ce l'ha fatta le tue capacità non hanno uguale fratello devo ammettere che è stata una bella parata si è fatto male per bloccare la palla sei ferito non mi sono fatto nulla è solo una fitta ho deciso di giocare e terrò duro fino alla fine spero spero che ce la faccia l'ho svitato ok passiamo la palla possiamo provare no sbaglio perché ho fatto ciò mi spiegate la grande stupidata che ho appena fatto dimmi che Liu Bei la para dimmi che la para Liu Bei si Liu Bei grande Liu Bei Liu Bei sei un grande ok avevo fatto una stupidata enorme perché avevo cambiata volevo far tornare per sbaglio avevo fatto avanzare troppo Liu Bei qui guardate qua che roba e quindi volevo farlo ritornare in porta solo che invece di far correre lui ho toccato la palla per firarla lì e quindi è successo un gran casino perché l'ho passata l'avversario no dai Sol perché oh grande 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 mi mangio tutto quello che ho detto vai vai va bene Sol va bene così dai Sol che andiamo a segnare forse su no no per la fretta e fuori gioco iniziamo bene questo video l'abbiamo iniziato proprio benissimo ma meglio di così non potevamo iniziare una stupidata dopo l'altra sto combinando proviamo in questo modo passarla in mezzo a Sol solo che abbiamo fatto fuori un sacco di pitti di Arion con due tecniche già usate vai adesso non sbagliarla clicco su T almeno siamo sicuri e vai con il bagliore solare 403 un po' bassino aspettavo qualcosina in più ok eh no ok non ha usato niente quindi a posto 1-0 partita sbloccata proprio da lui nuovo arrivato Sol Daystar magari se qua mi fate saltare anche il replay ok perfetto c'è un nuovo arrivato Sol Daystar arrivato se non sbaglio nello scorso episodio prima no quello prima prima di partire per i tre regni ecco e già segna un gol che per il momento è decisivo va di nuovo con il take all illusorio no non è vero perché non funziona però qualcuno gli dovrà prendere palla vai 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 Rioma no è Sol ci è andato prima Sol maledizione così facciamo fuori lo spirito no ok ne è ancora 95 di PSG quindi volendo possiamo tirare ancora se lo facciamo scattare come si deve vai dimmi che non è fuori gioco ok ecco ho aspettato a tirare perché se no sapevo che la telecamera mi avrebbe fregato avrei tirato anche prima eh però sapevo che quella maledetta telecamera si sarebbe spostata esattamente quando quando ho tirato quando stavo per cliccare sulla porta come è già successo in altri episodi se vi ricordate e 2 a 0 ancora lui Sol Daystar raddoppia il nostro vantaggio quindi possiamo già concludere qui la partita a sto punto perché veramente adesso non abbiamo più niente da fare o almeno io non so poi se ci saranno interruzioni ancora di storia però se non è così cioè se non ci saranno interruzioni io quasi quasi la partita la taglio cioè magari io per questo episodio deciderò dopo quando avrò finito di registrare però nei commenti se volete potrei fatemi sapere se voi le partite le volete vedere oppure preferite vedere più la storia che la partita perché io la taglierei per far diventare il video più corto e per fare più storia però se mi dite che vi piace vedere le partite io non le taglio quindi fatemi sapere voi se preferite vedere le partite perché io c'è stata già un'occasione che non c'era bisogno di andare avanti a vedere la partita cioè ho già vinto praticamente però ancora non era finita allora l'ho tagliata però se a qualcuno di voi piace vedere le partite me lo dica così almeno magari non le taglio sempre fatemi sapere voi nei commenti sotto questo video io a sto punto il primo tempo lo taglierei non sa che decido già ora e ci rivediamo verso la fine tanto manca poco oppure no dai primo tempo non lo taglio ci vediamo alla fine del video cioè no alla fine perché sto perché perché ho detto ciò volevo dire non lo taglio non lo taglio e magari vedrò nel secondo tempo ma che senso ha quello che ho detto boh stavo pensando ad altro vabbè fa niente capita cinta di nebbia Gabi recupera palla andiamo avanti qua magari segnare un altro gol ci potrebbe essere utile anche se non so fino a che punto anzi a sto punto farei pure possesso palla perché manca pochissimo vediamo se riusciamo a tenere palla lì andiamo all'angolino come si fa di solito no anzi no perché sennò ci contrastano subito e facciamo così se l'arbitro fischia ok perfetto è finito il primo tempo ora vediamo se ci sono interruzioni se non ci sono taglio 70% di possesso palla è evidente che è infortunato ma allora perché insiste a voler continuare hai già avuto modo di vedere che l'Yubei non ne demorde mai quando è impegnato per una causa è sempre stato così ha visto troppe persone soffrire sa qual è il prezzo da pagare quando la gente è in difficoltà e le autorità perdono tempo perciò è così avventato prende una decisione e la mette subito in pratica ecco perché un giorno regnerà sull'intera Cina il mondo è pieno di incapaggi che si riempiono la bocca di promesse e fanno grandi sorrisi ma quando il gioco si fa duro nessuno ha il coraggio di prendere in mano la situazione nessuno sa cosa fare L'Yubei sa che gli serve qualcuno come Zuge Liang per riunificare la Cina non si fermerà finché Zuge Liang non lo aiuterà è il nostro compagno d'armi e sacrificheremo le nostre vite per lui se sarà necessario non lo sapevo tocca a te JP cosa? a me? non preoccuparti non mi sto arrendendo proteggere ciò che hai di prezioso è nella tua natura vero? beh è anche nella mia e allora le insegnerò come proteggere la porta no non vantarti la vanità nebbia giudizio la cosa più importante è non esitare nel bel mezzo dell'azione non si può prevedere il futuro né sapere dove finirà la palla non corre agire prontamente non importa se il resto dipende dal fatto non mi sembra una grande strategia non hai capito la cosa più importante non è essere sicuri di qualcosa bensì agire con tempismo ma è esitare ma perché adesso hanno doppiato un dialogo se un dialogo no perché ok metti JP in porta e Liu Bei in panchina facciamo lo scambio così mi sento più sicuro in porta però guardate un po' abbiamo addirittura tre portieri Samgook JP Liu Bei se possiamo definire Liu Bei un portiere però consideriamo lo portiere e inizia il secondo tempo io lo taglierei per questa volta poi ripeto se qualcuno vuole vedere le partite per le prossime volte scrivetemelo nei commenti le prossime volte magari farò diversamente però io taglio e ci vediamo alla fine della partita o a un'eventuale interruzione se ci sarà quindi a dopo a tra poco ok è finita la partita finalmente non ho fatto assolutamente niente come al solito quando quando salto le partite quando devo aspettare che finisce fatto possesso palla girato per il campo solite cose attenzione perché ci sono nuove tecniche finalmente la nebbia avvolgente di Gabby quella mi interessa e poi a dei pesci volanti vabbè a dei non lo uso mai quindi non mi cambia niente mi hanno ottenuto lo schema terracotta quindi vediamo un po' adesso cosa succede beh in verità non ha fatto niente perché non ha dovuto fare neanche una parata ma questi sono dettagli ok quindi possiamo andare a vedere Ok possiamo andare no superare trappole della fortezza ce ne sono altre ok quindi andiamo a vedere ah ok c'è un altro piano questo non me lo ricordavo attenzione qua agli sfidanti attenzione attenzione lo scrigno no 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 eccolo lì mamma mia non ci credo eh sapevo io eh abbiamo beccato una sfida abbiamo beccato una sfida quindi facciamola velocemente questa non la salto visto che prima già è saltata una partita poi abbiamo già segnato quindi a posto ok sfida vinta facilmente e velocemente questo era l'importante abbiamo ottenuto escursioni per tutti se non sbaglio era un oggetto anche difficile da ottenere ok ottimo cioè di quelli per le amico card quindi andiamo di qua ah ci sono altre trappole allora ok non mi ricordavo sta cosa credevo che dopo aver battuto l'esercito di terracotta finiva lì si andava da Zuge Liang cosa succede altre trappole eh questa sembra difficile almeno ora sappiamo che Zuge Liang deve essere nelle vicinanze ci siamo quasi ok vuol dire che probabilmente facciamo questa sfida poi basta poi ci fermiamo per questo video solo che questa sarà difficile perché guardate qua io ci provo no ok questa è già andata primo tentativo fallito invece no uh quasi quasi direi di provare questa no ok no 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 arriva da lì si riapre da lì quindi così più o meno vai vai andiamo così proviamo dovremmo fare no direi di no ok proviamo subito questo visto che c'è lo spazio ok da che va perfetto e uno è andato ottimo così subito con l'ultimo questo sarà più difficile perché le cose lì i mattoni si aprono per di qua però forse da questa angolazione guarda questa da lì no di poco di poco maledizione quasi devo prenderla dritta ed è così più o meno credo aspettiamo che si riaprono i cosi un'altra volta ok ora proviamo così dai che va ok bella perfetto è andata anche questa sfida questo obiettivo diciamo l'abbiamo risolto possiamo andare avanti adesso vediamo un po' se ce ne sono altri se no ci fermiamo qua ok sbrighiamoci se ce ne sono altri le facciamo adesso si mi sa che ce ne sono altri allora andiamo avanti subito in questo episodio le trappole vorrei finire tutte in modo da andare nel prossimo episodio da Zuge Liang attenzione mamma mia non mi ero accorto che questo qui era uno sfidante scarpini allegri ok non so bene a cosa servono però vabbè e due scrigni due scrigni attenzione noce grande non ho mai usato questi oggetti mi sa eh e attenzione ok dragone sorgente questa mi interessa di più mica male come tecnica ecco questa sfida mi sa proprio di difficile ma tanto è sbaglio o quei cosi si alzano si abbassano più velocemente oh questo rompicapo sembra difficile credo che manchi poco forza Arion si questo dovrebbe essere l'ultimo io lo spero anche se mi piace fare sti sti così qua oh guardate lì ok lì va abbastanza veloce io faccio subito il primo visto che sono già diritto solo che mi sa che ho sbagliato eh si ok ho sprecato tempo a questo punto facciamo questo ok proviamo con questo visto che facciamo prima perfetto e questo qui è andato il primo tentativo ora voglio fare questo solo che devo capire bene come si muovono questi cosi eh come facciamo bel problema perché devo essere veramente veloce a farlo ora forse eh quasi quasi siamo lì siamo lì però devo farlo nel momento esatto in cui si alza quello lì ecco no troppo tardi troppo tardi o meglio io ho fatto giusto solo che non mi ha preso il click prima l'avevo fatto anche prima se no cerchiamo qua tipo eh no ancora no non va bene e invece si invece è passata è passata non ci credo ottimo così non ci credo credevo veramente di aver fatto tardi troppo tardi invece no è andata bene l'importante è questo ok vediamo se era l'ultimo prendete questa fiaccole manca solo un piano ne abbiamo fatta di strada ok io direi che ce lo faremo nel prossimo episodio il più difficile quindi direi che per questo video ci possiamo fermare qui guardate ci fermiamo proprio qua per andare nel piano successivo quindi salviamo ci fermiamo eh salviamo almeno vabbè l'ho già detto comunque almeno siamo già qui pronti per andare avanti nell'ultima trappola non voglio immaginare quanto sarà difficile visto anche la difficoltà di questa vabbè ho due saluti da fare che sono per Giacomo e Stella Splendente quindi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti Giacomo e Giacomo e